musica ancora, ancora girata per ora, parla di nuovo Arduino 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 lo trova in maggior esperienza nel numero 4 Romano abbiamo detto classe 88, intanto torniamo con il Ferentino che attacca gira la palla Galeazzi, Galeazzi la mette dentro e c'è la rete di Arduino Federico Arduino la mette dentro Romani, benissimo discivolata Proietti a pulire l'area di rigore ma è partito fortissimo il Fornia e c'è il pareggio dei ragazzi il mister Gennaro Arduino Arduino Arduini, attenzione Arduini la prova a mettere dentro all'indietro Cardinali, Cardinali tenta il tiro stoppato, fermato ancora parla del Ferentino Salvatori grandissima parla di Caparro Arduini spazza fuori ma bella azione questa del Ferentino ancora il Ferentino però con il numero 4 che prova ad andarsene in solitario Serpentino ancora lui tenta una conclusione spettacolare il gol di Begliuti spettacolare il gol di Begliuti ha superato tutti e ha scaricato un destro incredibile bellissimo è finita è finita è finita il Ferentino vince 2 a 1 contro un Formia che ci ha creduto ma il gol di Begliuti è stato risolutivo arrivederci alla prossima da MySoccerPlayer all'està